Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri nel bel mezzo del Festival di Sanremo, con grande dispiacere segnaliamo un grave lutto per la musica italiana e più in generale per la massima manifestazione canora italiana e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, non dimenticate di attivare la campanella per ricevere sempre le ultime notifiche. Nel bel mezzo del Festival di Sanremo 2022, un festival che sta riscuotendo ottimi consensi con straordinari indici di ascolto, segnaliamo un grave lutto per il Festival di Sanremo, a soli 37 anni è scomparso Antonio Laperuta, in arte Alin, era un giovane rapper casertano, mancato a soli 37 anni, Alin in passato ha partecipato a Sanremo giovani con la bellissima canzone Il tuo cuore quasi muore e in conclusione di video volevo parafrasare un toccante saluto da parte di un amico di Antonio che ha scritto Adesso sei in cielo, vicino a mamma e papà, riposa in pace, amico mio, il primo gare Marco Liguri, con immenso dispiacere, ricorda l'ex concorrente di Sanremo giovani, Antonio Laperuta, scomparso a 37 anni.